Presunte irregolarità negli scarichi industriali, il Consorzio ASI ha avviato il procedimento per la revoca dell'autorizzazione allo scarico ad un'altra azienda di Patrica che si occupa del trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non. L'istanza dell'ASI è stata avviata su richiesta dell'AEA, la società che si occupa della gestione del depuratore consortile di Ceccano. Un'esigenza nata, come riporta il quotidiano Il Messaggero in un articolo a firma di Pier Federico Pernarella, dopo il blizzo operato dalla polizia giudiziaria che ha portato alla luce presunte anomalie negli impianti per lo scarico dei reflui industriali. L'indagine avviata dal procuratore Giuseppe De Falco dopo la comparsa della schiuma nel fiume Sacco è ancora in corso, ma intanto l'ufficio tecnico dell'ASI, così come era successo per un'altra azienda, ha sospeso l'autorizzazione allo scarico. Un procedimento amministrativo distinto da quello penale, i cui esiti sono ancora tutti da valutare, soprattutto il riferimento agli sversamenti di tensioattivi che in più occasioni, la più clamorosa è venuta alla fine di novembre, hanno provocato la comparsa di schiuma bianca. In attesa di conoscere gli sviluppi dell'inchiesta, il clamore e i controlli che sono conseguiti a quegli attentati, un risultato lo hanno già ottenuto. Il fenomeno degli scarichi anomali in ingresso al depuratore di Ceccano si è attenuato in maniera sensibile.